ciao a tutti amiche ed amici quest'oggi vi presentiamo la melanzana a ventaglio molto gustosa e semplice da preparare vi invitiamo a realizzarla e a lasciarci giù in fondo al video i vostri commenti ecco ora il procedimento prepariamo innanzitutto il condimento olio sale pepe ed origano ci occorrono ora una melanzana due pomodori ed una mozzarella secca affettiamo i pomodori affettiamo la mozzarella affettiamo la melanzana senza arrivare fino in fondo Preparate una teglia rivestita da carta forno e vi appoggeremo la melanzana Spennelliamo ogni fetta con l'olio che abbiamo preparato All'interno tra le varie fette metteremo il pomodoro e la mozzarella Spennelliamo la teglia rivestita da carta forno Spennelliamo la teglia rivestita da carta forno Se vi avanza il pomodoro aggiungete semplicemente le fettine nella teglia Completiamo con un altro po' di sale Pepe L'origano Se vi è avanzato anche l'olio mi raccomando non gettatelo Ed ancora un goccio d'olio sulla superficie Inforniamo ora il tutto a 200 gradi per circa 30 minuti Ed ecco la nostra melanzana a ventaglio appena sfornata È ottima sia come contorno ma anche a pranzo o cena come portata principale Come sempre se la ricetta vi è piaciuta Vi invitiamo a lasciarci il vostro commento, i vostri suggerimenti Vi invitiamo anche ad iscrivervi al canale E ad attivare la campanellina della notifica Che vi avviserà ogni qua volta pubblicheremo una nuova ricetta Alle prossime idee Ciao a tutti da Margi Ciao a tutti